non è peccato non va buttilo via io boh io cale porco dio si deve chiesi anche i led vai 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 un culo giugnola vai io cazzo vai stai stoffendo vai le pedaline dai ma pure peccato no ma non è le pedaline che bigadi taglia uno gli schiappa in sotto ma si è difficile la di pedaline no ma non è per questo pedaline bigadi di centraline come a lascicare su me ave giglio dai da canna di pagnone Dai, faccio, vai qui azzè, è pronta la pizza. Vu 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 vu, chiama Gigi che ti vince la cettola lì. Non fate niente, eh. Le frecce, dame. Tu viergino, dame. Domani dovresti andare a Udine. Sì, a scuola questa qua. Oh, ritengo scherzando. Siamo arrivati a due minuti e ventuno. E poi, aggiungi due di prima. No, no, fotogli, stai senza batteria. Ah, ecco perché non si accende, forse. Dai, è Callave. Velo. Dai, è pronta la pizza a casa a rusare. Dai, ancora. Come on. Sì, non. È buona la pizza a rinunciare. Ahahah. E' buona la pizza. Dai, non. Dai, non. Dai, non. Dai, non. Dai, dai. Dai. Dai, non. Viva Val